Un aumento dei casi ogni 100.000 abitanti superiore al 40% in una sola settimana. Il report settimanale della Fondazione Gimbe fotografa anche per la Sardegna una situazione in netto peggioramento. In termini di contagio, nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre, il dato peggiore viene dalla provincia di Cagliari, in cui i dati ogni 100.000 abitanti raddoppiano, passando da 69 a 123. Nel Nuorese la situazione resta invece stabile, 120 casi ogni 100.000 abitanti. A confortare, nonostante il peggioramento del quadro generale, i dati sempre sotto soglia critica dei posti letto in area medica, attualmente al 7% e di quelli in terapia intensiva al 6%. Quanto ai vaccini, il tasso di copertura con due dosi per la popolazione sardal di sopra dei 12 anni è a oggi pari all'85,1%, comprensibilmente molto più bassa la percentuale di cittadini coperti dalla terza dose, ora al 49,3%, a fronte di una media italiana del 51,2%. Nel frattempo, anche nell'isola, la variante Omicron aumenta. I casi sospetti ieri sera erano 8, 7 dei quali nel nord Sardegna, e tutti contatti senza relazioni tra loro. In tutta Italia la nuova variante costituisce ormai il 28% dei nuovi contagi e i casi raddoppiano ogni due giorni. Un dato più preciso a livello nazionale della diffusione della variante arriverà dopo la Flash Survey, uno strumento che fotografa la situazione contagio in un dato giorno, prevista per il 29 dicembre.